Sarebbero dovute essere già scattate le maxi retate contro gli immigrati illegali in 10 città americane, ma il presidente Donald Trump ha deciso di rinviarle di due settimane. Scopo dell'intervento, il rimpatrio forzato degli irregolari nei loro paesi di origine. Come si legge in un tweet, il leader della Casa Bianca ora cerca così di mediare con i democratici. Una misura che ha provocato anche divisioni all'interno del governo, quale perplessità del segretario ed interim alla sicurezza nazionale statunitense. Trump ha spiegato di aver deciso il rinvio per concedere al Congresso la possibilità di lavorare a una soluzione ai problemi sull'asilo e sulle scappatoie legislative al confine meridionale, altrimenti via alle espulsioni. Secondo alcune statistiche sarebbero almeno 2.000 gli irregolari, ma è difficile stabilire dei numeri esatti. Il tycoon sembra aver evitato la dolorosa stretta che sta terrorizzando migliaia di famiglie di immigrati negli Stati Uniti, ma solo per il momento.